Gli amanti del running stanno allacciando le scarpe, una nuova edizione del trofeo Trieste è pronta a partire. Organizzata dalla Sport Società Podistiche Riunite Trieste, la manifestazione giunta alla 22esima edizione può contare su innumerevoli sinergie e collaborazioni, Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, Coni, Aix, Fidal e Panathlon Club Trieste. Nato nel 1984, il trofeo ha cercato sempre di valorizzare il lavoro di squadra per far sì che soprattutto le categorie master potessero continuare a coltivare la propria passione per l'atletica e a trasmetterla alle future generazioni. Siamo alla 22esima edizione del trofeo di Trieste, che racchiude 8 società podistiche di Trieste, le più famose, e abbiamo quest'anno aggiunto una prova in più, a differenza dell'altro anno, che sono 9 prove. La nona prova è dell'SD Everwood, che si svolgerà presso la Muggia Montedoro. Vi aspettiamo in tanti e comunque speriamo di fare il meglio che si può. La manifestazione aprirà i battenti il 7 aprile con il 79esimo giro di San Giacomo organizzato dall'ASD Gruppo Sportivo San Giacomo, per poi proseguire in rapida successione con il quarto trofeo suplina della Running World Trieste il 14 aprile, la 21esima Muia Longa sul Mar di Trieste Atletica il 21 aprile, il sesto trofeo Parovel della Varosandra Trieste il 12 maggio, la 45esima Napoleonica realizzata dal Kral Trieste Trasporti il 2 giugno, il 26esimo trofeo Varosandra della società omonima il 7 settembre, il 19esimo trofeo Generali organizzata dal Gruppo della Compagnia del Leone per il 15 settembre, la 44esima Sue Zoppe i Clans del circolo aziendale Fincantieri Varsila del 6 ottobre, e il primo trofeo Montedoro a cura della Evinrude il 27 di ottobre, la Carsolina Cross, anche questa realizzata da Trieste Atletica del 24 novembre, chiuderà la rassegna assegnando punti unicamente per le graduatorie di società.